Eccoci qua popolo di youtube Oggi è il 14 dicembre E noi con il nostro calendario dell'avvento Andiamo ad aprire la casella Eccola Andiamo ad aprire E cosa troviamo? Ah attenzione Watermelon Melone e anguria Apriamo Annusiamo Mamma mia Sapolo d'anguria Acqua Versiamo Ovviamente il colore sarà color Anguria Chiudiamo E shakeriamo Solita schiumetta Guardate che bel colore Colore anguria Bello 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 Anguria proprio Senti che buona 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 Io con la mia bella anguria Ci vediamo domani Sottolineate il link in Instagram Su Twitch Sperate il casino A domani Sottolineate il video 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 Sottolineate il video